Una delegazione di otto funzionari e rappresentanti di associazioni provenienti dall'Egitto, dal Libano e dalla Giordania è stata ricevuta a Palazzo San Giacomo venerdì 11 maggio dal vicesindaco e dalle assessore all'istruzione e alle pari opportunità. Fra i delegati anche la senatrice del Parlamento giordano Amnè Al-Falah. Tema dell'incontro, la situazione delle donne migranti che dall'Asia sudorientale si trasferiscono nei paesi del Mashrek, dove, secondo quanto riporta l'associazione Un Ponte Per che ha promosso l'incontro, l'inquadramento legislativo non sempre assicura la tutela dei diritti delle lavoratrici, ad esempio per quanto riguarda gli orari di lavoro, il salario minimo e le controversie giuridiche. Il supporto anche psicologico a queste persone viene per lo più da associazioni di volontariato e ONG, come la Jordanian Women's Union, che forniscono assistenza e protezione. In un quadro più complessivo, la tutela di queste persone riduce indirettamente l'immigrazione clandestina verso l'Europa occidentale.